Alla tre, bisogna stilare, come si stilano? Così? Fa trattare, ci va da bene? E si lascia i calci! Ok! Ok, ora abbiamo tre onde, mi raccomando, quella da saltare, quella da abbassarsi e quella da scegliare. Ma ricordo così, bisogna fare un'altra parte. Perché? Oh, è estremamente male, si sta fratturizzando. Oggi immaginiamo anche noi di essere piccoli piccoli, come all'origine del mondo. E ci sono, ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio. Ognuno come si immagina un batterio. Oggi, ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio. Oggi, ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio. Oggi, ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio che inizia a trasformarsi in pesce. Ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio che inizia a trasformarsi in pesce, inizia a trasformarsi in pesce. Ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio che inizia a trasformarsi in pesce. Ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio che inizia a trasformarsi in pesce. Ognuno diventa, all'inizio, un piccolo batterio che inizia a trasformarsi in pesce. Grazie a tutti.